eccoci qua ragazzi ciao ciao a tutti belli e brutti questi sposto eccoci eccoci qua come avrete visto parliamo del musone parliamo di nata nevere ma in che modo no non ho recuperato tutta la serie chi mi segue lo sa che già l'ho recuperata e letta tutta no voglio praticamente fare un video un po particolare mi è stato chiesto tantissime volte di fare un video dove consigliavo degli albi di nata never non in continuity ogni tanto qualcuno lo faccio un video su nata neva come schema lo posso prendere non ho letto niente non conosco niente lo posso allora che sai che c'è lo faccio ho preso l'occasione adesso che dovevo sistemare e spostare un po di robe e ho detto lo faccio lo faccio però mi ero preso già un po d'appunti e voglio fare questo video piccola premessa questi sono altri che piacciono a me credo che non si non continui di ma sicuramente potrò sbagliare sul peso degli appunti ma molto evidente ne potrò sbagliare su qualche cosa i commenti su apposta correggetemi insomma fan più sfegatati non ho fatto una tabella con tutti i numeri parleremo di serie regolare speciali e giganti perché i maxi non li ho letti l'almanacco qualcosina agenzia fa qualcosina ma lo sto ancora recuperando qui magari quello faremo un secondo appuntamento ok beh io direi che possiamo che possiamo partire nata neva e chi è nata neva per la gente speciale una serie creata da nel 91 da serra med e vigna i tre sardi per la sergio pure editore una serie che mischia fantascienza sci fi cyberpunk chi più ne ha più ne metta che io ho amato che amo i numeri più vecchi a me piacciono di più però insomma è tuttora in corso mi sembra che è col 381 se non sbaglio numeri della serie regolare 33 speciali giganti se non sbaglio nessuno mi ricordo un vero di una cacchiata ma boh 12 15 16 mi ricordo due altri due un po speciali poi almanacchi della fantascienza agenzie alfa universo alfa poi l'ex comunque serie satelliti spin off era uno delle dei personaggi che ci aveva più più tavole più insomma roba in ballo quando c'era tutto poi piano 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 sono state alcune cose chiuse e siamo insomma arrivati a regolare e speciale siamo rimasti anche il magazine non c'è più niente ma questo personaggio appunto lui che entra in questa agenzia privata dopo calagan act perché la terra è un po distopica perché c'è stata una grande catastrofe e come si fosse un po ripartiti per certe cose la tecnologia comunque andata avanti questa agenzia privata deve punto scoprire i criminali e poi sono dei super cattivi e come al solito vogliono conquistare il mondo o vogliono o c'erano con l'agenzia e e quindi la vogliono insomma sconfiggere e distruggere e siamo ambientati appunto nella nella città oppure a volte nello spazio in altri territori è molto si gira molto però diciamo che la maggior parte è sullo spazio o sulla città chiaramente quando è uscita nel 91 era pioneristica per tantissime cose anche solo per la fantascienza tipo cripto valute telefonini olografici adesso c'è già tutto chiaramente se non parli di viaggi spaziali o molti versi non è che te fa quella pillo perché altre cose oggi l'hanno già inventare davvero quindi non sembra più tutta sta fantascienza i primi numeri soprattutto influenze da manga robottoni vecchie serie alla flash gordon veramente di tutto Godzilla ai kaiju blade runner star 3 di tutto veramente di tutto ma dici dici ma non fai vedere allora partiamo subito con primo numero il primo numero a me mi viene d'obbligo da dirvi leggetevelo questa copertina e disegni di claudio castellini se non sbaglio i primi 49 numeri sono stati disegnati tra claudio castellini poi de angelis e poi abbiamo avuto sergio giardo mentre speciali claudio villa e poi se non sbaglio sergio giardo anche speciali ma numero uno è veramente iconico per tantissimi motivi chiaramente essendo l'uno non bisogna avere conoscenze pregressi perché l'uno però vinto luce molto molto bene nel mondo nata neveriano e quindi secondo me è un'ottima lettura sceneggiato da serra appunto disegnato a castellini poi andiamo al subito al numero 11 eccolo qua fanteria dello spazio sempre sceneggiato da serra e da de angelis ma questo essendo una storia doppia è contenuta sia nell'undici che nel dodici eccolo qua fanteria dello spazio e l'ultima battaglia guardate sempre serra e de angelis questa è una storia molto molto bella ambientata anche sullo spazio per discorso della scuola dei fanti e abbiamo robot abbiamo appunto i fanti spaziali e qui si racconta molto bene la l'esperienza di nata nei fanti spaziali quindi anche qui non non c'è non c'è insomma troppe robe da sapere comunque sia quando arriveremo un po più avanti è normale che anche se non è in continui di l'albo qualcosina qualcosina potrebbe sempre essere una piccolezza o anche lo scambio delle battute potrebbe essere qualche cosa detta o fatta qualche albo primo però con queste serie qui si sa che è così quindi non è che succede niente io dico proprio in continui quando tipo che ne so per 20 o per 30 pagine si dicono e succedono delle cose che il lettore non capisce una sega allora lì è ok questo è in continui uno scambio delle battute uno non coglie tutta la perfezione quello secondo me non è chi ha mai in continui di come penso io e arriviamo a un mondo perduto albo bellissimo sceneggiato sempre da serra e disegnato da tante bastenoni vuoi dire ma tutti da serra diciamo che 3d serra mio sceneggiatore preferito insieme a vietti comunque grandissimo grandissimo albo se non sbaglio qui si va praticamente poi da qui dovrebbe partire una continuity nella continui quindi uno una piccola saga che è quella insomma del del dottore che voleva portare la terra a allo stato preistorico perché l'umanità stava diciamo distruggendo di nuovo professora scienziato ecco dello scienziato fighissimo io a volte non mi potrò ricordare i nomi anche questi albi io questi che l'ho letti parecchio parecchietto tempo fa non l'ho letto nel nel 91 nel 92 però l'ho letti parecchio tempo fa e li so tutti i guardati sul sito bonelli e praticamente quelli che le copertine e il titolo mi ricordavano di più la trama mi erano più evocativi allora li ho inseriti nella appunto in questa non so come chiamarla lista in questa lista degli albi ecco molto molto bello poi andiamo al 28 io robot ecco qua guardate di nuovo sera di nuovo bastianoni allora nel mondo di nata never c'è pure mac dietro guardate nel mondo di nata never ci sono moltissimi robot androidi umanoidi c'è molto a che fa con l'intelligenza artificiale adesso se ne parla tanto un argomento moltissimo trattato e a me tutti gli albi dove c'è questo argomento soprattutto vengono inserite le tre leggi della robotica di asimov e vengono inseriti tante 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 dinamiche tante riflessioni sul rapporto uomo macchina su quello che poi sostituiranno le macchine sui diritti che magari i robot devono avere non devono avere e questi albi sono sempre tutti veramente veramente belli questo è uno dei primi se non sbaglio dove compaiono appunto tutti questi dilemmi e quindi una bellissima lettura ve lo consiglio ve lo consiglio fortemente qui abbiamo degli albi più vocazione più alla blade runner più alla vocazione appunto fantascienza pura poi avventura viaggi spaziali c'abbiamo un po di tutto c'abbiamo un po di tutto o alla ecco l'ultima onda questo qui che un po è un po mi ricorda molto mi ricorda molto point break ecco però mi sembra che questo è stato scritto prima se non sbaglio dei point break comunque scritto da vigna e disegnato da casini casini disegnatore un po che a tutti piace a me piace moltissimo una bellissima storia e questo ve lo consiglio non solo per la storia ma anche solo per tutto il discorso delle tavole delle della griglia boniliana che qua viene stravolta della regia in un modo veramente fighissimo è uno veramente degli albi purtroppo dopo questo numero in teoria c'è stato un po sergio bonelli non era molto contento di questo stravolgimento di griglia e sono dovuti insomma un po tornare nei ranghi i nostri autori però qui veramente bellissimo bellissimo un nata never tutto così sarebbe stato fighissimo ancora più di quello che è quindi consigliatissimo anche questo poi numero uno veloce che sono tanti ragazzi numero 32 dirti buleva eccolo qua guardate medda e bonazzi qui è un po più alla punto al blader anne per certi versi in teoria se non mi ricordo male qui c'è una voce fuori campo che racconta molte cose e la voce fuori campo a me mi fa impazzire nei film quando c'è la voce fuori campo soprattutto se è una bella voce è orgasmo puro molto molto interessante questo qui non c'è tantissima azione un po più appunto alla blader anne c'è questa via lo succedono delle cose se non sbaglio si raccontano delle storie di alcuni personaggi che frequentano questa via a dirti bulevard e però se vi piace appunto questa atmosfere misto blader anne misto mar questo qui insomma fa caso vostro poi numero 37 l'orrore sopra di noi ecco qua serra e bastianoni qui quando vi parlavo di gozilla e kaiju perché se era un grande amante di gozilla questo è un è un albo che non potete non leggere non l'ho segnato come forse qualcosina in continui ma da come adesso mi viene in mente ci potrebbe essere qualcosa in piccola cosa in continui non mi ricordo bene ma ma facciamo così tutti i super esperti più di me che si ricordano questi albi potrete potete scrivere nei commenti guarda ya quell'albo no perché troppo in continui in quella è di quelli che ho citato così chi guarda il video e vuole insomma prendere qualche storia si danno spulciate ai commenti e quindi magari dice oh l'ora è sopra di noi la così la quasi qua con i casi me lo prendo e poi dopo magari uno nel commento scrive guarda che peneofiti è un po' difficile c'è un sacco di rimandi allora uno dice ok non me lo prendo ok mi sono spiegato numero 42 paura sul fondo a eccolo qua comunque i copertini sono sempre fighissime lisiero cordone disegnato da casini se lo sbaglio nata deve praticamente deve investigare insomma sembra una morte su una fattoria sottomarina perché ormai non c'è più spazio e quindi a volte veramente certe storie sono veramente profetiche di quello che poi accade qua da noi adesso non c'è più spazio e quindi hanno fatto delle fattorie sottomarine praticamente coperte da cubole insomma pressurizzate dove ci lavorano umani misto misto robot misto macchine e l'agenzia appunto nata deve investigare su degli omicidi non ho detto una cosa che comunque si chiama nata never ma non c'è solo nata never il bello di questa serie che a me piace tantissimo è che ce lo so tantissimi altri personaggi beh dai cattivi che purtroppo non ho messo nessuna nessun super villain di quelli fighissimi che c'è nata perché perché andremo incontro a continui quindi andremo incontro a saghe andremo incontro a molti albi io tutte le saghe di nata never amo alcuni più alcuni di meno però non ho messo il crossover con martin mister o altri altri crossover non vi ho messo appunto le saghe perché la saga appunto essendo saga si sviluppa su più albi poi soprattutto se è una saga di serra lui dissemina veramente tipo inizia la saga poi dissemina 50 albi di piccoli indizi piccole cose e poi magari dopo la conclude quindi era proprio impossibile consigliarvela non voglio ecco quindi l'ho eliminata anche se le amo alla follia appunto dicevo non c'è solo nata never nell'agenzia ci sono si susseguono vari direttori dell'agenzia che sono secondo me un personaggio cardine gli autori all'inizio le hanno proprio come se fosse un agente e le hanno veramente caratterizzati da dio tutti e due direttori il terzo un po' meno è quello più recente poi c'è l'ex weaver che poi c'è fatta anche una serie da sola compagni insomma di avventure di nata never c'è sigmund genio dei computer link i robot che in uno dei primi numeri salva salva natan c'è quello pure è un bel numero ma non mi ricordo qual è non so se ve l'ho citato non so se io robot link o no potrebbe essere non mi ricordo poi c'è tantissimi personaggi poi prima c'è in the evil and poi non c'è più tantissimi se si seguono parecchie agenti agenti speciali uomini e donne ma diciamo di quelli gatti rimangono poi mei branco che so le sorelle frame veramente tantissimi non voglio star qui però sappiate che ci sono tanti altri personaggi tutti bellissimi tutti da esplorare alcune storie sono più incentrate non ha nata never ma questi personaggi per sviscerare alcune cose ragazzi è un mondo veramente un mondo bellissimo ok poi abbiamo il satellite killer numero 44 eccolo qua di serra e bastianoni questo l'ho segnato rosso l'ho segnato rosso e che potrebbe essere in continuity con il mondo perduto se non sbaglio non ricordo bene quindi l'ho segnato in rosso attenzione continuity l'ho messo così ecco poi dal 44 si passa a 135 eccolo qua nemico pubblico qua abbiamo un serra barra piani e bonazzi tanta tanta roba questo bellissimo mi sembra in natale va incarcerato incarcerato senza insomma ingiustamente bisogna tirarlo fuori se non sbaglio c'è anche molto partecipazione dei legs mi ricordo che mi era piaciuto veramente tanto non c'è tanta azione se non sbaglio però un album molto molto carico bello poi abbiamo 183 base artica abbiamo vetti vietti e di clemente vietti dopo si aggiunge a la schiera di sceneggiatori a un certo punto non mi ricordo a che numero e fa anche lui delle opere d'arte dei capolavori questo è veramente veramente bellissimo non so se questo secondo me base artica precedente un incubo non l'ho segnato però vietti di clemente vietti di clemente si questa è una storia doppia questa qui è bellissima c'è tantissima azione c'è branco guardate un mutante che poi diventa gente alfa e i disegni di clemente sono qualcosa ragazzi di di spettacolare ci sono delle tavole veramente strepitose veramente veramente una bella storia qui diciamo c'è tipo un virus che poi comunque voi se volete prendete appunti quando la legge a trama sul shop boneri decidere se fa per voi o no comunque c'è un virus che in una base appunto artica che ha cambiato un po le persone sono diventato un po di buon mostri anche la rosa mandare a indagare e quindi trovo del filo della dolce il mondo di domani eccolo qui albo 203 di serra e poi sono vari vari disegnatori perché sono parecchie storie qui c'è veramente tutto tutto l'amore di serra per i fumetti un omaggio agli eterni di chi se lo sbaglio se c'è questo credo che sia questo agli eterni di kirby a fa mille cose a mille cose 45 disegnatori diversi per 45 storie è una figata pazzesca e questa è una figata veramente pazzesca dovete recuperare poi 200 e ho segnato un po in continuo di questo è un po in continuo ho segnato poi la cittadella 234 eccolo qua questo è allora pergnola disegnato a gradino e oscar e qui abbiamo link questo è il link tanta tanta roba qui se non sbaglio ci hanno avuto dei litigi tra morale non morale appunto legge della robotica non legge della robotica quello che è giusto quello che è sbagliato tra nata nel link e tutto questo discorso il succo della storia e la fa la fa veramente apprezzare tantissimo bello poi eccolo qua la strip di atti amato 261 eccolo qua rigamonte gradin questo qui è una storia carina disegnata bene a me è piaciuta come sta disegnata la storia avventurosa e insomma si fa leggere non è un capolavoro però si fa leggere qui dentro qui dentro in questa lista non troverete solo storie capolavoro dove delle storie normali perché se avevamo quelle incontinuiti se avevamo quelle con degli accenni di continui se avevamo le saghe avevamo quello avevamo quell'altro di quello che rimane è molte non so storie capolavori storie normali nella media questa è una storia da bella ma niente di eccezionale ecco le altre erano quasi tutte fighissime questa qui è carina ma niente di eccezionale ecco poi abbiamo le prime radici questo qua di secchi disegnato da simona denna qui abbiamo insomma tutto un discorso vedete qua i copertini sono già di giardo invece qui si sono sempre qua perché qua di giardo bellissima bellissima e che dire qui si se nocciola un paio di cose che riguardano l'ex weaver che è un personaggio fighissimo non c'è tanta azione c'è più introspezione rapporto papà figlia e forse perché a me l'ex piace molto come personaggio ma l'ho apprezzata veramente tanto sta storia poi 297 la lunga marcia eccolo qua di pistoglia disegnato da bocca infuso questo qui praticamente sembra quasi un palermo milano solo andata prende spunti comunque qui bisogna ascoltare un giudice che viene minacciato da malavita e l'agenzia fa gli farà da scorta e ma non solo l'agenzia alfa ci ho trovato i riferimenti appunto a palermo milano solo andata al film per chi l'ha visto e bello un bel albo insomma una bella storia poi 305 il viandante qua prendo pure questo abisso di dolore 306 guardate qua allora questa è una doppia storia c'è già da secchi disegnata da primo da cacca terra il secondo da giardo allora perché ve l'ho messa innanzitutto per faccio piccola piccola una piccola parentesi nel mondo di nata never c'è praticamente il jet kundu che quest'arte marziale praticata da questi shaolin che è un po lunga però nata never l'ha presa al monastero dei shaolin dal maestro che era amico eccetera eccetera qui si parla di un personaggio si parla di un personaggio questo monastero che fa delle robe un po così e io l'ho segnata un po allerta continiti perché bisogna sapere delle cose sui shaolin se non sbaglio qui un po viene raccontato perché ragazzi non ci dimentichiamo che una delle prime regole di sergio bonelli e degli albi bonelli che tutti gli albi bonelli di di qualsiasi serie devono essere capibili letti e capibili da qualsiasi lettore senza aver conosciuto i 304 albi prima c'è uno deve comprarlo in edigo a legge sul armare oppure a stazione e quindi comprasse per 305 e comunque passa mezz'ora sulla panchina piacevole senza ogni tre pagine farsi centomila domande quindi se vuoi venire sta doppia storia sicuramente c'è un piccolo riassunto sul discorso dei shaolin una bellissima storia giardo ma calcaterra soprattutto fa un lavoro ai disegni eccezionale c'è una bellissima atmosfera e ve la consiglio veramente veramente tanto poi aspettate che faccio un po posto questi ecco spostato sicura delle camera tutto bene poi 318 il canto di gaia eccolo qua questo qui praticamente è tutto a colori per i 15 anni in nata neve è praticamente disegnato a mare abberto mare abberto sceneggiato da ostini a colori mare abberto sapete il suo stile insomma non da me i colori sono da neve non mi fanno un pazzi tanto deve essere sincera colorazione non è che una delle mie preferite e soprattutto come si dice soprattutto la storia però la storia è bella la storia interessante non è un capolavoro ma è una storia carina interessante che fa riflette ho fatto ma riflette ho apprezzato molto poi abbiamo scusate ma ciò infatti ci avevo messi avevo messi in disordine e quindi non mi ricordavo allora ci abbiamo sui asteroidi e missione per un amico guardate qua questa è star trek omaggio missione per un amico l'are qua i pretoriani questa è una doppia storia di vigna di sergio giardo che io ho apprezzato molto mi è piaciuta molto c'è qualcosina di continiti se non sbaglio si però la bella qui siamo sullo spazio contro marte anche astronavi spaziali flotta spaziale qui siamo un po' più su sullo spazio ecco poi abbiamo 3 e 29 3 30 angelita e le colpe dei padri questo qui è micco per nione disegnato da oscar molto belli disegni molto bella sceneggiatura ho apprezzato veramente molto una storia sulla figlia di mendoza il meccanico dell'agenzia è bella bella mi è piaciuta non è insomma a confronto a questa questa è più figa però anche questa non è male poi abbiamo 354 e 355 qua è una storia molto più molto più odierne è molto più molto più vicino a noi 354 355 eccolo qua checkpoint la città del vento checkpoint 23 vigne toffanetti qui ci sono dei personaggi interessanti abbiamo i robot ci abbiamo la città di trieste come come sfondo ma non direi come semplice sfondo ma veramente con un altro personaggio qui romeo toffanetti secondo me fa un lavoro egregi veramente egregissimo se si può dire e si dice griglia molto molto rivoluzionata molto più moderna molto più dinamica quindi l'ho apprezzato molto soprattutto per questo la storia non è che sia per il mondo nata neveriano la storia un po importante perché mette in punto a del cefa inizia delle scatena delle robe un po particolari che ci sono portati fino a un po tempo fa però appunto la griglia e come viene usata la città i sfondi della città è tutto mi è piaciuto veramente veramente tanto e da un plus a questa storia poi abbiamo 358 il virale dei cieli eccola qua questa è una storia carina ma che è arricchita dal grandissimo massimo dall'olio quindi è fatta molto stile manga molto stile mia zagi per certi versi da masperi sergio masperi se non sbaglio sceneggiata trovate parecchi vicissitudini questa storia è stata interrotta poi ripresa insomma per motivi anche un po non piacevoli e vabbè comunque i disegni di dall'olio ragazzi uno spettacolo abbiamo il fattore h eccolo qua al 364 di medda e raw ragazzi raw a me piace del brutto come disegna qui abbiamo una danneva a che fare con mistero su una navicella spaziale come spesso accade e un po particolare e un po come si è visto in altri anche in altri film non che a volte quando tipo la navicella spaziale comanda lei o il computer va in tilt o o qualcuno dell'equipaggio c'è qualcosa che non va bisogna scoprire chi è dell'equipaggio su tutte queste dinamiche che che se sono strutturate bene e accompagnate da un grandissimo disegno sono sempre storie molto molto piacevoli poi siamo quasi alla fine abbiamo memoria di un assassino 365 di hacker disegnato da ianni beh ragazzi questo qui già dalla copertina la come si dice l'ambientazione blade runner noir mi sembra dietro l'angolo bella bella storia dei disegni che danno una una veramente una punto mood noir ma a livelli proprio bella 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 consiglio tantissimo soprattutto se non vi piace ecco magari l'avventura spaziale ma vi piace più appunto proprio blade terranismo allora questa qui fa poco per voi ultimo ma non d'importanza uno degli ultimi albi quello uscito mese scorso se non sbaglio sì in un mondo perfetto eccolo qua di medda disegnato da simona denna e de angelis grandissima tene d'angis qua fanno un lavoro veramente veramente straordinario e metto a scrivere una bellissima storia noir che mi è piaciuta veramente veramente tanto anche se io sono più per altre per nata nero quello più spaziale quello più dove c'è azione tutto però questa è veramente una bella storia che ti consiglio adesso non so quanto siamo arrivati del video saremo già lunghissimi arriviamo ai speciali non un po veloce allora speciali per il consiglio 4 su 33 il consiglio numero 2 guardate qua lo spazio profondo uno dei quelli che mi piacciono di più di medda disegnato da de angelis qui c'è l'arbetto sull'ex weaver vabbè e che dire su quest'albo che non è in continuidi ma qui iniziano delle cose ma però lab molto molto interessante con dei disegni la bellissima storia numero 5 il giorno della meteora eccolo qua qui abbiamo la regola come si chiama scarlet mente ora metto scarlet scarlet me lo meno si chiama nave spaziale del dell'ammiraglio questo se c'è questo ambientazione sono sempre il loro fascino che c'è poco da fare andiamo completamente fuori costo dallo spazio andiamo in africa non si chiama africa ma in africa con lo speciale numero 27 gli spiriti della terra questo è di russo disegnato da russo palomba e chiere chi bello 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 disegni mi sono piaciuti mostro due della palomba abbiamo tutto un discorso di bracconaggio di salvare salvare gli animali dell'africa ha fatto come sempre ha fatto un po riflette ma la storia molto molto piacevole anche questa storia molto semplice niente di eclatante ma ma carina che insomma ve la consiglio e poi consiglio l'ultimo uscito speciale numero 33 le stagioni del dolore perché alla fine le storie erano tranquille carine non mi dispiaciuto non è un capolavoro ma carino e così dice quattro storie disegnate da quattro da quattro disegnatori diversi e interessante interessante questo questa cosa un po che è stata fatta qui e che poi dall'altro all'inizio già cioè quasi sono delle storie che erano già tipo fatte da due personaggi diversi due disegnatori diversi molto prima del drago nero perché veramente nata nero è stato più pionieristico su un sacco di cose tutti gli addetti ai lavori ecco di nata nero e che ha preso queste decisioni è stato veramente pionieristico su un sacco di cose e poi purtroppo adesso di me non è più così non è più molto più rinistico ecco e non dimentichiamo i giganti eccoli qui io vi consiglio il mio preferito perché i giganti molti sono continui c'è tutta la saga dei tecnodroidi c'è la saga di nemo parecchie saghe sui giganti quindi questo qui la rivolta è leggermente in continui di per alcune cose ma poca roba perché c'è l'isola dei mutanti bisogna sapere cos'è non mi sembra un po la spiega c'è i mutanti però questo qua punto di medda è disegnato da casini stupendo stupendo un bellissimo bellissima storia un bellissimo albo questo veramente da avere fighissimo e poi per le grandi storie che sono due albi che sono usciti quando i giganti sono smesse sono hanno smesso di esserci che sono praticamente io vi consiglio il primo dei due che ai giorni della maschera adesso ce l'ho sull'armadio nelle scate non l'ho potuto prende che è di rigamonti disegnato da corato roi prima volta di corato roi su nada never devo dire che io non amo moltissimo il disegno cioè è un grande corato roi disegna da paura ma a me non piace il suo tratto ok però devo dire che su questo albo ha fatto un lavoro veramente fighissimo veramente una storia veramente veramente bella figa ti trasmette veramente quel mood che ti vuole trasmettere sia con la storia coi dialoghi coi disegni e quindi se siete amanti in genere più un thriller psicologico non dico ora però un thriller psicologico che vi tiene un po sul filo del rasoio questa qui veramente la storia che fa per voi o ragazzi sono stremato non ce la faccio più non so quanto ho fatto ma ho ben bicchiere d'acqua sono morendo quindi io vi ringrazio se avete visto tutto il video spero che sono stato utile spero che sono stato utile a tutti quelli che se vogliono leggere qualche storia in tranquillità magari sotto l'ombrellone o a casa senza dover si recupera 400 numeri con l'ansia e spero che a qualcuno lo incuriosito e che inizierà a recuperarsela tutta e per il resto se vi va appunto lasciate un commento un like se siete nuovi iscrivetevi e vi vanno adannevere appuntamento al prossimo video ciao a tutti